In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, dopo questa ondata di freddo, come si presenta la situazione attuale del tempo? Splende nuovamente il sole sull'intera nostra regione dopo l'episodio freddo che nei giorni scorsi ha determinato una marcata diminuzione delle temperature e deboli nevicate a quote di alta collina. L'afflusso di aria fredda è stato inibito dall'espansione di un campo di alta pressione che in queste ore sta prendendo possesso dell'intero bacino del Mediterraneo, riportando nuovamente condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. Un inverno dunque che si conferma anonimo, almeno sinora, e che potrebbe salvarsi in parte solo nella sua fase finale. Cosa ci attende invece per questo fine settimana e quindi per le giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio? Per domani, sabato 8 febbraio, avremo cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Tuttavia, notte e tempo e al primo mattino, avremo la formazione di dense foschie e locali banchi di nebbia nelle vallate e pianure interne. Temperature in aumento nei valori massimi, in lieve diminuzione le minime della notte sulle pianure interne dove saranno possibili estese brinate, venti deboli mediamente occidentali e mari quasi calmi o poco mossi. Per domenica 9, cielo poco nuvoloso con passaggi di nubi stratiformi in intensificazione nel corso del pomeriggio sera quando saranno possibili isolati piovaschi segnatamente sul settore occidentale della regione. Temperature senza variazioni di rilievo, con valori in linea con la media del periodo, venti deboli occidentali tendenti a rinforzare dalla serata, mare da poco mosso a mosso. Puoi fornirci anche un aggiornamento sulla tendenza che caratterizzerà la prossima settimana? Lunedì si intensificherà il flusso di correnti umidi occidentali con cielo che si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso con associate deboli precipitazioni. Sarà il riflesso di una forte tempesta che interesserà l'Europa centro-settentrionale. Martedì 11, lieve miglioramento con temperature in aumento ma con una moderata ventilazione da ovest. Una situazione di tempo variabile che potrebbe accompagnarci per quasi l'intera prossima settimana. Ma, per maggiori dettagli, invito come sempre i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it